Presso l'Aula Montalenti dell'Università La Sapienza si è tenuto un incontro sul tema mille genomi, promosso dal Master in Scienze della Vita nel giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali. Un progetto internazionale che nasce nel 2008 e che apre la strada alla conoscenza di una nuova mappa della diversità genetica attraverso l'analisi del genoma umano e quella di altri mille genomi della specie. L'obiettivo della ricerca è infatti quello di riuscire a produrre un catalogo estensivo e completo della variazione genetica umana, variazioni che apparirebbero in almeno l'un per cento della popolazione studiata. L'evento che ha visto la partecipazione di Vincenza Colonna, ricercatrice dell'Institute of Genetics and Biophysics, e di Anna Meldonesi, giornalista della rivista Darwin, è stata un'occasione per discutere degli aspetti mediatici, oltre che scientifici, di questo importante percorso genetico che darà un significativo contributo alle future indagini mediche.